Proseguiamo con una scuola di danza di Ferrara, Multidanza, diretta dall'insegnante Sandrine Mattesco. Le ragazze sono pronte? Con The Little Gypsy, ecco voi, Multidanza! Le ragazze sono pronte? Con The Little Gypsy Le ragazze sono pronte? Con The Little Gypsy Le ragazze sono pronte? Con The Little Gypsy, la scuola di danza di Ferrara, Multidanza, diretta da Sandrine Mattesco. Grazie. Grazie.